Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi la recensione del libro Absence, il gioco dei quattro, di Chiara Pansuti che mi è stato inviato dalla Fazzi Editori per quanto riguarda la catena Lane Young Adult appunto per recensirvelo. È un libro che è uscito in libreria il primo giugno. Non ho qui la mia copia cartacea per il momento perché comunque è nella mia seconda casa però la Lane è stata così gentile da inviarmi anche una copia digitale da poter leggere in anteprima in modo da farvi uscire questa recensione il prima possibile. Non appena ho letto la trama il libro mi ha incuriosito particolarmente, sembrava un qualcosa di veramente veramente interessante e soprattutto innovativo. E devo dire che è stato così, soltanto che ho delle opinioni un pochino contrastanti per quanto riguarda questo titolo. Perché se non ho letto la trama mi è piaciuto tanto, dall'altro è stato difficile per me riuscire a continuare a leggere di fila il libro senza interruzioni perché è molto introspettivo, non essendo il tipo di scrittura che prediligo mi ha un pochino rallentata ecco. Il libro parla di quattro ragazzi che diventano di punto in bianco invisibili e soprattutto la loro esistenza viene cancellata dalla memoria di tutti quelli che conoscono e si ritrovano insieme a partecipare a questa specie di caccia al tesoro indetta da un personaggio misterioso che non gli spiega niente della loro situazione. E si troveranno a gareggiare tre squadre appunto composti da quattro individui. Non vi dico altro semplicemente per il fatto che è un libro che va scoperto pian piano. Seguiamo principalmente un personaggio, cioè Fate. Fate che è la protagonista principale, ma nel suo gruppo avremo altre tre componenti, cioè Jared, Christabel e Scott. E devo essere sincera, un altro dei motivi per il quale il libro non mi ha preso più di tanto è appunto perché io non mi sono immedesimata in quella che è Fate. Il libro è molto introspettivo perché Fate è molto introspettiva con se stessa. E se è uno stile di scrittura, quello di Chiara Vanzuti molto bello e articolato, che comunque riesce a far apprezzare anche questi monologhi interiori, però da un lato dopo il decimo capitolo Fate continuava con le solite rimuginazioni anche dei primi, secondo me era un pochino ripetitivo e annoiava. Almeno a me ha annoiato un pochino questa cosa. Ho prediletto due altri personaggi che sfortunatamente sono quelli che si vedono di meno, cioè Christabel e Scott, che sono quelli che vanno un pochino ad alleggerire i toni del libro, che altrimenti se visto soltanto dalla mente di Jared e Fate diventa pesantissimo a mio avviso. E soprattutto perché Fate, secondo me, non è l'eroina giusta per questo tipo di libro. Nel senso, io mi ritroverei in una situazione in cui non so niente di quello che mi sta succedendo, buttata in un gioco in cui la mia vita è a rischio, non me ne starei lì a piangermi addosso, a pensare a quello che ho perso. Sinceramente, l'istinto di sopravvivenza dovrebbe prendere un attimo il sopravvento, come fa un pochino, non con Christabel forse, ma con Scott. E anche con Jared, Jared è già un personaggio che apprezzo di più. Il mio voto per questo libro sono state tre stelline, e principalmente appunto perché non sono riuscita a medesimarvi tanto con Fate, perché secondo me questi monologhi interiori che ha la protagonista diventano ripetitivi al decimo, quindicesimo capitolo, perché sono sempre più o meno gli stessi, anche se vengono articolati in un modo fantastico, che alla panzù ti riesce a scriverli in un modo veramente magico, soltanto che, sinceramente, dopo un po' a me annoiava, addirittura saltavo delle frasi che volevo andare avanti, avrei preferito un libro più incentrato sull'avventura e sui misteri, che ci sono comunque, piuttosto che su Fate e quello che prova, perché sì, ci sta, serve per capire il personaggio, però dopo un po' almeno a me è stufato. Un'altra cosa che ho apprezzato, però non quanto avrei voluto, è stata la storia tra Jared e Fate, veramente prevedibilissima, soltanto che le avventure si svolgono veramente in sette giorni, forse un pochino di più sì, però, ecco, ho trovato la loro storia un pochino forzata, e ci sta, perché è forzata, lo ammettono anche loro nel libro, perché si ritrovano a essere gli unici che riescono a vedersi, e quindi, insomma, quando le tue opzioni sono limitate a due ragazzi, scegli quello che ti piace di più, comunque è una scelta che ti viene un pochino imposta dalla situazione, infatti sono curiosa di vedere come si andrà a evolvere poi nel prossimo libro. Un'altra cosa che mi ha lasciato un pochino dubbiosa è stato il finale, il finale che secondo me poteva essere arricchito da qualche colpo di scena, perché alla fine ho trovato la narrazione un pochino piatta, nel senso che ci sono alcune svolte, però non c'è un colpo di scena veramente che ti lascia lì col fiato sospeso, che ti spinge a voler leggere i seguiti. Sarà anche il prossimo, penso, una caccia al tesoro, forse scopriremo qualcosa di più. Semplicemente magari avrei preferito lasciare spazio di più, appunto, come ho detto, alla storia, all'avventura, piuttosto che a quello che provava Fate, e forse, almeno per il tipo di lettore che sono io, il libro avrebbe funzionato di più. È comunque una bellissima storia, vedo come possa piacere a tantissimi, come posso essere il libro dell'anno per tante persone, appunto, proprio per i fatti che a me non sono piaciute più di tanto, perché comunque le frasi che Chiara Panzoli scrive, quando ci parla di quello che Fate prova, sono delle frasi veramente in cui ci possiamo relazionare tantissimo, soltanto che veramente l'unico problema che ho avuto è stato il fatto che erano ripetitive. Scritta in modo diverso, ogni frase era più bella dell'altra, però alla fine io avrei preferito dare più spazio all'azione. Sono una tipa tutta da combattimenti e, non lo so, misteri, e avrei voluto un pochino di più da questo libro. Questa è tutta la mia recensione, fatemi sapere se l'avete letto, se l'avete acquistato, cosa ne pensate, giù nei commenti, come sempre vi lascio giù nell'info box il link dove poter acquistare Absence, il gioco dei quattro, su Amazon, e in più tutti i link ai miei altri social network. Ringrazio ancora la Fazzi per avermi inviato gentilmente questo titolo che comunque si è rivelato decisamente interessante. Se il video vi è piaciuto lasciatevi un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché mi aiuterebbe tantissimo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!